partite iva fantasma la guardia di finanza pesarese ne fa chiudere 41 dall'entroterra alla costa il turismo parte con il piede giusto nuova luce per i mosaici del duomo via al progetto di valorizzazione via toscana dopo le segnalazioni arrivano i rattoppi d'asfalto dalle uova di rossini alla casciotta di raffaello ecco la ricetta di pesaro 2024 buonasera e benvenuti al telegiornale di oggi giovedì 4 aprile che apriamo parlando di cronaca 41 aziende pesaresi con partite iva inattive finiscono infatti nel mirino della guardia di finanza in quanto sospette del fenomeno fraudolento detto apri e chiudi ne parliamo in questo primo servizio 41 aziende pesaresi finiscono nel mirino della guardia di finanza per il rischio del cosiddetto fenomeno fraudolento apri chiudi 41 individuate nei primi tre mesi del 2024 per le quali è stata avanzata dall'agenzia delle entrate provinciale la richiesta di chiusura delle relative partite iva in quanto non attive l'attenzione dei finanzieri pesaresi è stata canalizzata soprattutto nel settore del tessile abbigliamento gli approfondimenti sono stati eseguiti con accertamenti di polizia economica finanziaria fra sopralluoghi presso le sedi legali e luoghi di esercizio dichiarati incrocio delle informazioni contenute nelle banche date e fatturazione elettronica il risultato è stato quello di una individuazione di decine di partite iva riconducibili a imprese inattive o dormienti constatata l'inesistenza di qualsiasi attività economica nelle ultime annualità e in diversi casi anche l'irreperibilità del titolare d'azienda è stata avviata la procedura d'ufficio di chiusura delle partite iva rischio di finalità illecite quali l'emissione di fatture per operazioni inesistenti il trasferimento di proventi all'estero o il mancato pagamento di imposte e contributi nonostante il meteo incerto pasqua e pasquetta hanno registrato presenze in crescita di visitatori sul territorio provinciale sia per l'entroterra che per la costa per il direttore di confcommercio varotti si tratta di un inizio di stagione assolutamente promettente ascoltiamolo nel periodo pasquale è andato molto bene sia nella costa che nell'entroterra peraltro io posso anche dire gestendo come confcommercio quattro musei nell'entroterra abbiamo avuto un boom di presenze basti dire sono mondavio 350 visitatori il giorno di pasquetta 200 eventi il giorno di pasqua 190 sabato santo fossombrone 295 ingressi al chiesa di san filippo una cinquantina al museo casa museo quadreria cesarini a pergola abbiamo riempito il giorno di pasquetta il numero massimo che noi accreditiamo 230 visitatori urbino con l'attrazione di queste mostre dedicate a bartolini nella sala del castellare della nuova mostra dedicata alle coppie in due dine delle opere di raffaello nel collegio raffaello ovviamente il palazzo ducale di urbino ha fatto una grande attrazione quindi un boom di visitatori pesano 32 alberghi su 52 aperti grazie anche al fatto che siano tanti eventi sportivi anzi molti hanno dormito in romagna gli alberghi erano pieni così come anche i ristoranti quindi è un buon inizio di stagione però io voglio anche ricordare che una volta si diceva chi viene per pasqua viene anche per vedere poi le località e scegliere una vacanza oggi invece dobbiamo ammettere che il turismo soprattutto il turismo dell'entroterra ha una autonomia rispetto al turismo balneare per cui chi è venuto è venuto per l'entroterra è venuto per i nostri musei per la nostra bellezza e per un turismo sostenibile che si ripercuoterà tutto l'anno grazie anche a pesaro 2024 e restando in tema di attrattività turistica il lungomare di pesaro si sta abbellendo in questo mese di aprile con la creazione di 11 aiuole artistiche su viale trieste un ritorno al passato con uno sguardo al futuro su questa scia aspes disegna il lungomare pesarese proponendo nuove aiuole che a ponente porteranno il numero delle zone verdi a 18 opere e decorazioni che ricordano i giardini della palla di pomodoro di un tempo ma che allo stesso modo osservano al futuro all'insegna dell'ambiente grazie al risparmio idrico che attenua costi e utilizzo dell'acqua per il 25 aprile dovremo essere pronti ad accogliere la città nella città turisti pesaresi nel modo migliore possibile stiamo facendo questo grande lavoro di rifacimento di tutte le aiuole della parte di ponente compresa i giardini della sfera grande di pomodoro cercando di andare così a ripercorrere in maniera più contenuta quello che erano anche gli elementi e le tipologie del passato quindi gli animali fiori fioriti o meno insomma un lavoro che vede aspes coinvolta su indicazione del comune in maniera così molto anticipata anche rispetto agli anni scorsi perché diciamo la pasqua e poi il 25 aprile ci hanno fatto iniziare molto prima i lavori diciamo che abbiamo fatto questo tipo di scelta un pochino retro per andare incontro a quello che erano appunto i giardini del passato e anche perché questa tipologia di aiuola dal punto di vista ambientale ha un consumo di acqua molto limitato rispetto alle aiuole fiorite che comunque sul mare si alterneranno con questo tipo di tipologia pesaro sempre più bella fiorita accogliente proprio per così mostrarsi nell'anno della capitale della cultura all'italia e al resto del mondo proprio nella sua bellezza nella sua magnificenza per così andare incontro anche quello che è il tema che traccia l'anno della cultura capitale della cultura di pesaro e la transizione ecologica è uno degli elementi fondanti su cui si basa si basa il programma della della città e che in cui si vuole mostrare agli occhi dell'italia non solo dell'italia e noi con questo tipo di installazione vogliamo appunto andare incontro anche a questo argomento e nell'anno della capitale della cultura la città di pesaro prova a valorizzare uno dei suoi patrimoni artistici più nascosti parliamo dei mosaici sotterranei al duomo ora la fondazione scavolini mette a terra un importante intervento per renderli maggiormente fruibili il tesoro sotterraneo della storia antica di pesaro è pronto a riemergere a nuova luce con un innovativo progetto di valorizzazione quello che riguarda i mosaici del duomo di pesaro quello su cui investe fondazione scavolini che da fine mese metterà a terra un progetto che prevede l'ampliamento delle finestrature attualmente esistenti nella navata centrale la sostituzione dei vetri opacizzati e la realizzazione di una nuova illuminazione progetto a carico della fondazione presentato oggi nell'episcopio della cattedrale e concertato con arcidiocesi comune e sovrintendenza operiamo per la salvaguardia la valorizzazione del patrimonio culturale di questa città e quando pesaro è stata eletta capitale della cultura volevamo poter mostrare di nuovo almeno in parte quello che sono i mosaici del duomo quindi abbiamo iniziato lo studio un anno fa quindi con la sovrintendenza naturalmente con la curia per vedere se eravamo poi in grado di realizzare questi lavori siamo arrivati alla fine di questi studi e se tutto va come deve andare perché sapete meglio di me che quando si iniziano questi lavori soprattutto in luoghi come questi si potrebbero incontrare delle piccole difficoltà però aspettiamo l'ultimo matrimonio e poi la chiesa chiuderà per due tre settimane quindi noi ci auguriamo di iniziare i lavori alla fine di aprile per aprire per poi riaprire a maggio fine maggio nel 1999 il duomo vide la costruzione di una pavimentazione sopraelevata in elementi d'acciaio realizzata dal ministero della cultura per valorizzare i due tappeti musivi presenti nel piano sotterraneo in 25 anni però le finestrature sono state usurate dal calpestio perdendo trasparenza ora le nuove finestre faranno emergere la cronologia del panel sesto musivo sotterraneo quella di destra permetterà di avere una vista più ampia delle specchiature che costituiscono la pavimentazione a mosaico del sesto secolo e renderà anche visibile la trincea che ha messo alla luce quella del quarto quinto secolo quella di sinistra permetterà invece di vedere il celebre pannello della nave troiana e della sovrapposta scacchiera del dodicesimo tredicesimo secolo saranno 42 metri quadri verranno aperti ci verranno ampliati già quelli esistenti ci sarà la possibilità quindi di vedere delle parti che adesso si intravedono verranno tolte delle panche poi per il momento sono previsti nel lungo la navata due grossi ampliamenti verrà diciamo sostituita la parte chiusa con delle vetrate ma quello che è importante che verrà dotato di un'illuminazione in modo tale che i veti adesso a parte che sono più colori scuro saranno trasparenti ma ci dà la possibilità proprio di leggere e di vedere i mosaici il progetto sarà reversibile e non altererà lo stato del luogo la cattedrale resterà chiusa durante il periodo dei lavori per poi riaprire riorganizzando le sedute in base al nuovo assetto l'esecuzione dell'opera è stata affidata alla società pesarese renco poi ci auguriamo tutti come molti di noi hanno avuto la possibilità anni fa circa 25 anni fa di godere di tutto il pavimento magari perché no ed ora cambiamo argomento a nemmeno una settimana dall'inaugurazione del nuovo mammografo nel distretto sanitario pesarese di via nanter l'azienda sanitaria di pesaro urbino si dota di una nuova strumentazione all'avanguardia ovvero la risonanza installata e già in funzione nel reparto di radiologia dell'ospedale santa croce di fano che consentirà prestazioni di qualità superiore con una riduzione dei tempi di esecuzione degli esami del 50 per cento più veloci anche grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il nuovo macchinario l'adeguamento dei locali e la strumentazione correlate c'è stato un investimento complessivo di due milioni e mezzo di euro attraverso i fondi pn rr interventi presentati oggi dalla direttrice sanitaria nadia storti dal sindaco massimo seri e dagli assessori regionale filippo saltamartini francesco baldelli e stefano guzzi ed ora spazio alle vostre segnalazioni a pochi giorni dalla vostra segnalazione in merito allo stato di dissesto stradale della zona industriale pesarese di via toscana e via lombardia sono già arrivati primi interventi riparatori vediamo a pochi giorni dalla segnalazione di rossini tv dello scorso venerdì 29 marzo in merito allo stato di dissesto stradale della zona industriale di via toscana e via lombardia sono già arrivati i primi rattoppi il comune risponde presente alla richiesta di intervento riparatorio su un percorso che nei giorni feriali risulta tanto trafficato quanto disagevole per auto mezzi pesanti e scooter costretti allo slalom fra buche e crepe profonde non ancora un'asfaltatura complessiva ma una serie di interventi volti a riempire e appianare i crateri e le voragini createci sulla sede stradale che stavano procurando disagi e pericoli soprattutto anche per il rischio caduta dei ciclomotori visto che in alcuni casi le crepe spuntavano anche dopo un angolo cieco in piena curva segnalazione risolta almeno parzialmente segnalazioni che vi ricordiamo potete inviare al numero whatsapp di rossini tv 370 366 72 10 e allora avete visto che segnalare le cose che non funzionano va sempre bene perché poi in qualche modo si risolvono e allora l'invito è quello di scriverci al 370 366 72 10 ed ora parliamo di politica continuano giorno per giorno a romper gli indugi i prossimi candidati sindaci alle elezioni amministrative che l'8 e il 9 giugno chiameranno alle urne 38 comuni della nostra provincia di pesaro urbino ieri vi abbiamo parlato dei casi di valle foglia e gabice mare oggi ha invece ufficializzato la sua ricandidatura anche alessandro piccini per un terzo mandato a sindaco di cantiano dopo che il mandato che sta scadendo è stato uno dei più complessi della storia del paese alle pendici del catria una cantiano messa in ginocchio infatti prima dall'alluvione di settembre 2022 e resa ancor più insolita e dagli otto mesi di chiusura della strada contessa oltre naturalmente alla convivenza col periodo di pandemia piccini dopo aver contribuito alla ripartenza del paese si ricandida ora per puntare ad un definitivo rilancio di cantiano anche gli agriturismi della provincia partecipano a pesaro capitale della cultura lo fanno lanciando una ricetta dedicata pesaro 2024 che è stata presentata oggi nel mercato campagna amica di via giolitti e che sarà proposta nei menù di tutti gli agriturismi a pesaro 2024 anche il cibo e cultura e lo è soprattutto quando sul piatto racconta la storia antica di un territorio è il caso di legami una ricetta che punta sulle diop della provincia e sul retaggio gourmet dei suoi cittadini più illustri da giochino rossini caragghiotto di uova e tartufo a raffaello sanzio amante della casciotta a miscelare il tutto ci pensato questa mattina i cuochi contadini di terra nostra associazione che riunisce gli agriturismi di col diretti marche cuochi che al mercato al coperto pesarese di campagna amica in via giolitti hanno cucinato la ricetta che sarà manifesto di pesaro 2024 in tutti i suoi agriturismi siamo qui al mercato coperto in via giolitti di pesaro per inaugurare questo legami che è questo piatto con eccellenza del territorio che i nostri turismi di terra nostra avranno in tutta l'annata presenteranno come pesaro capitale della cultura in tutta l'annata 2024 ma è un qualcosa di più del piatto e basta quindi è un legame veramente con la storia la cultura ovviamente con rossini testimonial in un gastronomico d'eccellenza che abbiamo su pesaro è un tentativo veramente di comunicare quel valore aggiunto che la nostra agricoltura che le nostre aziende danno costantemente come custodi del territorio ma anche come promotori di quel cibo che si va a fare tutti i giorni che si va a portare sulle tavole dei consumatori ma cercando di legarlo alla cultura la storia l'arte e da qui il nome legami con un uovo con il tartufa con la casciata d'urbino l'olio e il vino quindi eccellenze del nostro territorio che sono un ottimo testimonial per pesaro capitale della cultura 2024 diversi pesaresi che hanno approfittato della mattinata al mercato di campagna mica per degustare i prodotti a chilometro zero e assistere alla creazione della ricetta legami andremo a creare una frittata in abbinamento con casciata d'urbino tartufo fresco che anche lui non ha bisogno di presentazioni nella provincia di pesaro abbinata ai vini rossi in questo caso a un colli pesaresi doc sangiovese e per terminare lo andremo a presentare insieme a un pane di grani antichi anche questi hanno caratterizzano la provincia di pesaro sia per coltivazione sia che per trasformazione per col diretti parte dunque da pesaro 2024 un ulteriore incentivo agli investimenti sulla promozione degli agriturismi marchigiani la regione marche è una regione di agriturismi sono oltre 1100 le strutture agrituristiche che si occupano quindi di accoglienza sono aziende agricole nella loro espressione massima della multifunzionalità il 30 per cento di queste aziende insiste nella provincia di pesaro quindi questo è sicuramente un territorio che ha già forte la vocazione per il turismo rurale i nostri imprenditori agricoli sono pronti per continuare ad investire in questo senso e sono pronti anche soprattutto per offrire un nuovo tipo di turismo che è un turismo esperienziale legato ovviamente ai territori e legato all'ambiente legato anche e soprattutto a un nuovo rapporto tra campagna e città quello che abbiamo presentato stamattina è sicuramente un esempio di questo legame sabato 6 aprile alle 15 30 il comune di cartoceto inaugura l'officina di lucrezia si tratta del primo dei due edifici completamente recuperati ai quali l'amministrazione ha voluto dare nuovo valore e nuovi obiettivi l'officina ospiterà infatti spazi dedicati alla socialità e ad attività di educazione e formazione per i giovani di cartoceto proseguono gli incontri capitali di pesaro 2024 il disordine mondiale sarà il tema della conversazione fra l'ex presidente del consiglio massimo d'alema e il giornalista marco tarquinio precedentemente rinviata e ora in programma sabato 6 aprile alle ore 18 nell'allusfera di piazza del popolo un dialogo che darà spunti per riflettere sui nuovi equilibri globali in rapida trasformazione nella stagione maxi che festeggia i 30 anni di attività dell'orchestra sinfonica rossini spazio alla modernità con l'orchestra che produce la sua versione del musical parigino moulin rouge appuntamento al teatro rossini di pesaro domani venerdì 5 aprile alle 21 e 30 con un tributo coordinato a livello musicale dal maestro daniele rossi e con la regia di laura mungherli per scenografia e coreografia di danza protagonista del musical sarà la cantante e attrice eleonora mazzotti si intitola nove sculture per una grande anima la mostra dedicata all'artista ugo riva che sarà presentata sabato alle ore 16 a pesaro nella chiesa del nome di dio di via petrucci la mostra visitabile dallo stesso pomeriggio negli spazi del museo diocesano è promossa dall'arcidiocesi di pesaro ed è organizzata dall'associazione grande anima che sporrà le opere di riva artista considerato fra i maggiori maestri della scultura italiana contemporanea ed ora concludiamo il nostro telegiornale andando a scoprire la nuova attività commerciale di grande distribuzione che ha tagliato il nastro ieri a pesaro dopo mesi di lavoro che hanno anche modificato la viabilità di via gagarin ieri ha ufficialmente aperto king con il suo megastore di abbigliamento sportivo da 2000 metri quadrati king apre a pesaro il noto gruppo made in marche specializzato nel settore dell'abbigliamento casual all'esportivo arriva nel pesarese con un megastore di 2000 metri quadri una nuova apertura che anche un ritorno sul territorio per l'azienda dopo anni e in grande stile una piazza importante indispensabile per la nostra realtà essere presenti noi siamo di senegallia quindi pesaro è la seconda piazza delle marche era necessario anche presentare un estore all'altezza della piazza quando abbiamo rilevato king nel 2003 da un fallimento esisteva un negozio a pesaro era in centro purtroppo lo abbiamo chiuso perché non era non ereditizio ci siamo anche un obiettivo di tornare prima o poi diciamo in questa piazza sono passati praticamente vent'anni e finalmente siamo tornati non è una rivincita quelli erano altri tempi un mercato più difficile dovevamo sperimentare capire quello che era oggi siamo pronti per qualunque tipo di diciamo di sfida o di piazza è chiaro che magari giocare nelle marche è un pochino più semplice però l'importante è dare quell'offerta e quel servizio che una piazza così importante merita in un periodo di crisi dove le aziende continuano a chiudere king invece continua a crescere e ad aprire nuovi store nonostante il grande nemico del mercato online siamo in controtendenza no rispetto a tanti settori del mondo retail in primis pensate a quello del settore bancario che non fa altro che chiudere diciamo sportelli ma anche altre attività del retail stanno retrocedendo sulle aperture noi grazie a con una politica attenta lungimirante continuiamo in questa espansione fatta sempre però con il passo giusto con mezzi soprattutto propri e questo devo dire anche la differenza rispetto ad altri chiamiamolo competitor no altra particolarità di king è quella che vede quasi tutti i suoi dirigenti cresciuti all'interno dell'azienda da qui dunque la visione di un grande gruppo come di una grande famiglia l'azienda è un'azienda familiare nel dal punto di vista societario e nella gestione questo sicuramente è un elemento importante io sono entrato in azienda circa 15 anni fa ho fatto tutto il percorso di crescita e devo dire che il 99 per cento delle figure che occupano ruoli di responsabilità in king sono persone cresciute all'interno che quindi hanno potuto diciamo vivere la crescita dell'azienda i propositi i valori che spingono le persone che sono a capo dell'azienda a fare un determinato tipo di percorso e questo sicuramente ci ha portato è stato un elemento distintivo eccoci arrivati alla fine del nostro telegiornale vi ringrazio per averci seguito anche questa sera intanto però vi invito a restare con noi perché come sapete il giovedì è serata dedicata al basket e allora le 21 e 20 vi aspettiamo saremo in diretta come sempre con insieme a canestro e allora la nostra elisabetta ferri questa sera intervisterà fernando labella che è un ex giocatore della vl luigi gresta che è il coach partecipate scrivendo al nostro numero di whatsapp oppure commentando in diretta nella nostra pagina facebook domani invece torna la rassegna stampa alle 7 20 con il nostro daniele sacchi ed ora per voi il meteo grazie e buona serata